Era il 20 luglio del 1969 quando la missione spaziale americana dell'Apollo 11 conclude il sogno dei secoli di una umanità che ha guardato in alto nel cielo la luce della sua luna, volendola conquistare come nelle visioni più ispirate dei suoi poeti, musicisti e artisti. Neil Armstrong consegna al futuro la sua orma, toccando finalmente il suolo lunare, il sogno finalmente si compie. Lui e i suoi compagni Buzz Aldrin e Mitchell Collins, lanciati nello spazio dal missile Saturn V e scesi con il LEM, il modulo lunare, entrano nella storia. Ne parliamo con il professor Giovanni Maria Piacentino, docente dell'Università degli Studi del Molise. L'arrivo sulla luna dell'uomo è da un lato il compimento del sogno millenario di raggiungere la luna. Ci sono romanzi, favole, immaginazioni, l'ippogrifo e così via. Dall'altro è la prima battuta di un preludio. Il preludio al ritorno dell'uomo nello spazio, da dove probabilmente viene, è tutta la storia di questo evento e l'epopea di quel periodo che nasce nel 57 quando improvvisamente l'Unione Sovietica mette in orbita un satellite artificiale. L'Unione Sovietica lo fa senza sostanzialmente dare spazio agli scienziati nei primi satelliti, ma solo ai tecnologi. Negli Stati Uniti si risveglia da un lato il timore di questa tecnologia e dall'altro l'ambizione di essere competitivi. Le due potenze si rincorrono nello sviluppo tecnologico con una meravigliosa successione di eventi. E finalmente nel 61 il presidente Kennedy annuncia al mondo che intende far sì che gli Stati Uniti entro la decade portino un uomo sulla Luna e lo riportino indietro sulla Terra con sicurezza.